alza un po' non si vede la scritta a me c'è le comande vabbè dai dammi a me pronta a me c'è un po' non a me c'è un po' non a me c'è un po' non aspetta un zoom ferma due è buona lo stesso due ne hai fatte no? due ne hai fatte un po' non a me c'è un po' non quattro 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 centimetri centri 19 20 2 minuti e mezzo 2 minuti e mezzo fai così dai se ti trovi bene 2 minuti e mezzo 22 minuti e mezzo 23 minuti e mezzo 24 minuti e mezzo 24 minuti e mezzo 25 26 27 vai arriva a 30 dai 28 29 30 15 ancora sono passati 4 minuti e 20 1 2 vai rimane vicina non ti allontanare 3 3 vai così vai 4 vai 5 ok dai gli ultimi 10 ultimi 10 dai l'ultimo sforzo dai non ti fermare mo mo dai tutto dai 10 chiaro tutto dai tutto dai 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 10 dai non ti fermare 1 vai vai dai tutto dai tutto brava vai 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 dai tutto dai 3 3 dai 8 8 6 vai vai 4 vai non ti fermare mo eh dai vai 5 solo 5 non ti fermare mo siamo a sesto minuto adesso non ti puoi fermare dai non ti puoi fermare dai vai 1 vai 4 altri vai che ce l'hai ce l'hai ce l'hai ce l'hai 2 brava vai vai non ti fermare mo dai mo dai mo vai 3 2 altri 2 altri vai 2 altri dai chiaro 2 altri 2 altri dai 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 un altro un altro vai vai l'ultimo sforzo dai l'ultimo l'ultimo tienilo eh yes bene eee Eu ah 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 ha Grazie a tutti.